Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere i problemi di rete e internet quindi in questo caso se non hai nessun accesso a it è possibile trovare altre soluzioni quindi andando su risoluzioni dei problemi dobbiamo prima capire qual è il nostro problema altri strumenti di risoluzioni dei problemi rete e internet eseguiamo così la scansione ci dice che la scheda di rete ethernet è disabilitata quindi in questo caso va abilitata se non dovesse funzionare possiamo sempre riavviare il nostro pc usare il ripristino della rete quindi io abilito così la scheda una volta fatto io chiudo un attimo qua vado tasto destro su impostazioni rete e internet quindi tasto destro qua sopra impostazioni rete e internet impostazioni di rete avanzate prendi così una delle connessioni installate una delle reti installate nel tuo pc quindi in questo caso io vado a prendere questa qua ethernet uso questa qui altre opzioni scheda codifica vado sul protocollo internet versione 4 tcp bv4 utilizzate seguenti indirizzi server dns avete problemi con il collegamento possiamo sempre usare i consigli fastweb plus quindi cloud flare e google dns che sono i migliori sono raggiungibili agli indirizzi 8.8.8 dns primario inseriamo così il dns preferito questo qua poi dopo andremo così a fare un ripristino della rete e qui invece vai a mettere come server dns alternativo che sarebbe proprio il secondo metti 8.8.4.4 e fai ok una volta fatto chiudiamo un attimo qua e andiamo anche a fare un ripristino della rete andiamo sul cmd esegui come amministratore il prompt dei comandi facciamo sì una volta fatto prima di procedere con questi passaggi ti consiglio di guardare tutto il procedimento e poi farli perché sennò ti disabilita così la rete e non sai più come continuare quindi il primo comando da inserire net winsock reset fai copia lo inserisci qua facciamo invio reimpostazioni del winsock completato quindi è necessario avviare il computer mettiamo anche il secondo passaggio la reimpostazione completata di alcune reti mettiamo anche il terzo lo inseriamo qua e avviare il computer per completare l'azione una volta fatto tutti questi passaggi riavvia il computer passiamo con il quarto passaggio lo inserisci qua mettiamo pure il quinto come ultimo passaggio mettiamo questo qua le impostazioni di alcuni parametri inseriti quindi in questo caso una volta fatto tutto riavvia il sistema chiudiamo un attimo qua una volta fatto se non dovesse funzionare possiamo sempre aggiornare i driver della nostra scheda di rete quindi andiamo su gestione dispositivi schede di rete ovviamente la mia scheda di rete che uso spesso è questa qua tipling wireless npc express adattatore questa qua e poi c'è quella dell'ethernet io uso più questa per il cavo ethernet e qui per la wifi quindi se devi aggiornare così la scheda di rete c'è anche un tutorial in alto a destra nelle schede su come aggiornare tutti i driver del pc grazie al programma driver easy quindi vi ho lasciato in descrizione anche il link che vi potrà sulla pagina per scaricare il programma driver easy così facendo aggiorneremo anche la scheda di rete facciamo aggiornare ovviamente non ho la scheda di rete quindi in questo caso per farti un esempio su come scaricare e aggiornare così la scheda di rete quindi per farti un esempio prendiamo questa qua da 500kb faccio aggiorna crea manualmente installa manualmente andrà così a scaricare così file ci aprirà la cartella vai sul percorso file della cartella fai copia copia questo vai sulla tua scheda di rete che hai trovato in driver easy tasto destro sopra aggiorni driver cerchi driver nel computer e inserisci così il percorso file di questa cartella vai avanti e aggiorni così la tua scheda di rete c'è sempre anche un'altra soluzione alternativa di andare a cercare così la nostra rete e ed eccola qua io cerco così la mia scheda di rete faccio su supporto e qui ci sono i driver scarico e installo gli ultimi driver rilasciati e ci sono solamente questi qua se no perché quando vai a installare così la tua scheda di rete non va devi scaricare i driver se vai il cavo ethernet collegato alla scheda madre e riesci a connerterti alla rete puoi scaricarlo per quello invece che hanno il cavo ethernet vai direttamente sulla tua scheda madre cerchi così la tua scheda madre vai su supporto vai su driver e download su driver LAN drivers scarichi e installi così il setup il driver per la tua rete per altri problemi ancora ci sono vari tutorial in alto a destra nelle schede quindi se hai problemi ancora con questa scheda di rete o problemi di connessione nessun accesso a internet commenta sotto al video se ti è stato utilissimo iscriviti lascia like noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao